Sono onorata, emozionata e sono contenta, soprattutto per le motivazioni di questo premio, perché appunto io penso che gli scrittori di genere devono essere fortemente consapevoli del fatto che scrivono per un titolo basso e scrivono per dire dire, che non vuol dire che ci rai intorno agli argomenti importanti o non vogliono interpretare la realtà o parlare di...